buonasera buonasera a tutti io essere zio di avvocatolesca io essere incastrato mulinello della canna da pesca per gli amici incastrato mulinello o io essere qua niente non fare niente non fare niente non dire niente perché tempo brutto 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 il tempo piole piole brutto il tempo e io ho passare passare essere stato essere stato a fare penica avere fatto penica pomeridiana pomeridiana adesso essere pronto per fare qualcosa non so che cosa probabilmente uscirò uscirò di casa di canna di grande giallo io non so dove andare non so cosa fare e adesso mangiare mandorla mandorlino ma mangiale vedete mi ha sorriso che bel sorriso un sorriso da incastrato mulinello ciao ragazzi buona salata avvocatolesca incastrato mulinello ah 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 Grazie a tutti